Inside El Salvador, cosa non raccontano i massimalisti di Bitcoin? Prima parte l'abbiamo già affrontata, il governo di Bucchele e la sua ascesa politica, la seconda parte in precedenza chi ha il controllo del Civo Wallet ed oggi affrontiamo Bitcoin City con i Vulcano Bonus. Quello che ascolterete non sarà di vostro gradimento, tutte le fonti di informazioni salvadoregne sono riportate in descrizione ai video e ulteriormente sono anche state richieste 5 interviste a giornalisti salvadoregni e tutti hanno rifiutato per non avere complicanze nel loro paese proprio con il governo di Bucchele. Facciamo pertanto un look fro su questi due temi particolarmente molto caldi che piacciono alle comunità dei massimalisti, ossia Bitcoin City e i Vulcano Bonus. Mettendo insieme le tre parti di questa indagine finanziaria, vi renderete conto che quanto sta accadendo in El Salvador è completamente distante dalla narrazione suggestiva, ossessiva, propinata dai cripto media occidentali. Partiamo col punto numero 1. La mancanza di trasparenza del governo del clan Bucchele è una costante onnipresente. Lo abbiamo messo in luce durante la seconda parte. Tutte le informazioni che riguardano le metriche, le analisi, i volumi riconducibili al Civo Wallet, al suo utilizzo, alla sua fruizione, agli utenti e così via, sono secretati, non vengono divulgati e ci sarà probabilmente un motivo per cui questo tipo di informazioni non devono diventare pubbliche. 2. L'idea di una città tecnologica concepita per attrarre imprese e finanziatori dall'estero non è una novità in El Salvador. Udite, udite, fu l'allora partito di schierta, di sinistra, del fronte marabundo Martín Parla Liberación Nacional che propose nel 2018 la cosiddetta Lei per la Zonas Economicas Especiales, la SEDES. E all'epoca che Bukele faceva parte di questo partito che gli consentì oltretutto l'ascesa politica per essere eletto e diventare all'inizio sindaco di una piccola cittadina, guardate che cosa diceva di quel progetto che era una follia e non si doveva consentire la privatizzazione del territorio salvadoregno ma soprattutto che veniva proposto secondo lui come un progetto neoliberale che non faceva bene al governo e alla storia del nostro paese. Avete ben compreso nel 2018 quando Bukele faceva parte di questo partito tra parentesi riconducibile ancora per chi avesse visto la prima parte la storica agenzia pubblicitaria del padre che gestiva tutta la propaganda e il marketing politico di questo partito di sinistra. Lui ovviamente, che osa dicendo, criticava l'idea ossia che si potesse creare appunto un enclave per attrar investitori esteri. Terzo, il lancio propagandistico di Bitcoin City ma cosa si nasconde in realtà dietro a questo progetto faraonico? Tutto 0%, non si pagano tasse sui redditi, non ci sono tasse sulle property, sui beni immobiliari addirittura la speculazione finanziaria è esente da tassazione non c'è contribuzione sociale, 0% di emissioni CO2 caspita, per uno che arriva da un partito di sinistra estrema a proporsi dal punto di vista politico con questo tipo di impronta è difficile sostenerla in termini almeno di ideologia politica riconducibile a quel tipo di partito. Ma andiamo avanti, sia da Bitcoin o Bitcoin City per utilizzare la terminologia inglese vedete, presupporrebbe per la sua costruzione un processo di finanziamento basato sull'emissione di un famoso bono quindi un'obbligazione, un bond di 10 anni di durata un controllo di un miliardo e poi questa emissione obbligazionaria sarebbe gestita o aiutata nel suo collocamento attraverso due noti operatori, attori di mercato dell'industria cripto Bitfinex e Blockstream su questo ci andremo, le richiameremo poi in un secondo momento e questa è la strepitosa rappresentazione di quella che dovrebbe essere Bitcoin City qui vi faccio subito una chiamata sapete che cosa mi ricorda a me questo tipo di design questo tipo di prospettazione se non altro dal punto di vista urbanistico bar architettonico? Mi ricorda il complesso The World a Dubai le famose isole costruite nel mezzo dell'oceano riporta artificialmente attraverso la sabbia andata e a vedere che cosa è successo a The World vale a dire un progetto totalmente fallimentare che all'epoca venne pompato mediaticamente e andò in overbooking di prenotazione nelle prime 48 ore dal lancio mediatico come lo ricordo bene quel periodo perché ci fu tantissima enfasi anche in Italia sul successo strepitoso che aveva il lancio finanziario di The World a Dubai oggi vi lascio oltretutto per chi volesse andare anche a approfondire questo tema il link è in descrizione che racconta tutto quello che è accaduto a The World a Dubai stiamo parlando di un paese del Medio Oriente molto distante, molto diverso dalle logiche di governo e dal modo di fare business che hanno i paesi invece dell'America centrale l'aspetto molto interessante di tutta questa decantata narrazione è che innanzitutto come potete vedere Bitcoin City non ha alcun tipo di progetto dettagliato per la sua costruzione dovrebbe essere ubicato nel famoso golfo di Fonsegna a lato del noto vulcano Conciagua che al momento attuale non ha alcun tipo di impianto geotermico da utilizzare per sfruttare la produzione di energia elettrica c'è tantissima stampa di settori in America Latina che parla di progetto utopico non ascoltate quello che viene narrato dalle cripto community occidentali che sono fatte sostanzialmente da cripto imbasati guardate dall'altra parte dell'oceano che mettono in discussione tutto quello che è stato rappresentato come un progetto impossibile da realizzare non solo finanziariamente ma anche ingegneristicamente lo vedremo tra poco e l'aspetto che invece viene tantissimo enfatizzato è quello finanziario del progetto ossia l'emissione di questo prestito obbligazionale per un controllo di un miliardo di dollari e come potete notare vi faccio metto in evidenza qui sottolineato in giallo che l'emittente dovrebbe essere la Repubblica del Salvador quindi questa dovrebbe essere un'emissione sovrana secondo questa grafica e il collocatore dovrebbe essere Bitfinex Security quindi un noto exchange nel mondo a cripto che ha oltretutto anche tantissimi punti di domanda a molti utenti, a molti trader, a molti attori di mercato Bitfinex diciamo che non è che piace tantissimo si tratterebbe di un'emissione a 10 anni con una remunerazione al 6.5% e tutta una serie poi di ulteriori elementi caratteristici come verrebbe utilizzato tutto questo denaro raccolto grosso modo 500 milioni per realizzare portare avanti il Bitcoin City e il 50% per investimenti in Bitcoin quindi si crea un prestito per andare poi ad investire sostanzialmente in qualcosa che è fortemente volatile però avendo una remunerazione certa quindi un costo per le finanze pubbliche 4. Il quadro macroeconomico del paese appare peggiore di quello del Venezuela alla fine dell'epoca di Chavez andiamo in ordine guardate questo redazionale straordinario reperibile al pari di tutti quanti quelli che state guardando in descrizione dei video che fa comprendere che cosa? che innanzitutto i bailando con Mr. Bitcoin il progetto al momento attuale fa comprendere che gli unici a poter finanziare ancora lo Stato del Salvador sembrerebbero essere gli amanti delle criptomonete ossia alcuni grandi investitori istituzionali che sembrerebbero essere diventati gli unici finanziatori dell'economia salvadoregna a maggior ragione ne avevamo parlato anche nella seconda parte non è Bitcoin il vero punto di arrivo per il governo di Bukele ma stando proprio al ditta dei suoi fratelli che è l'emissione di un altro attivo digitale quello che sarebbe chiamato il colon dollar che andrebbe a sostituire interamente il dollaro americano quindi Bitcoin secondo la narrazione della stampa in America Latina e la prospettazione che ha fatto il governo di Bukele per voce dei suoi stessi fratelli rappresenterebbe una fase transitoria quindi tutti quelli che esaltano Bitcoin in Occidente dovrebbe rendersi conto che in realtà se tutto questo che viene prospettato andrà poi a compimento in realtà Bitcoin rappresenta ancora una fase cosiddetta intermedia o grigia il paese, ossia El Salvador si trova in una situazione finanziaria di emergenza causata dalle conseguenze ovviamente della pandemia di Covid il debito è letteralmente esploso e fatalità, fatalità Bukele prima di buttarsi sulla ventura Bitcoin aveva tentato di negoziare con il Fondo Monetario Internazionale un miliardo di dollari vedete qui evidenziato nella seconda parte per risolvere tutte le problematiche legate alla pandemia in El Salvador quindi riepiloghiamo questo passaggio Bukele in difficoltà per la gestione dello Stato in conseguenza della crisi pandemica necessita di un miliardo di dollari e lo chiede al Fondo Monetario Internazionale tutto questo prima che qualcuno alzasse dal suo governo la bandierina con il Bitcoin e quello che sta facendo adesso sembrerebbe come vedete qui evidenziato in azzurro molto simile a quello che propose Maduro con il Petro proprio per sgravarsi e tirarsi via dal Fondo Monetario per quelli che esaltano Bitcoin City andiamo a fare tutti i business in America Centrale beh non è che sia El Salvador uno dei paesi particolarmente attraenti io sono stato qui, c'è l'Equador in al 129esimo posizione ci sono stato 9 anni fa proprio come come imprenditore con l'idea di fare una realizzare un investimento immobiliare madre dei Dios per carità assolutamente io come europeo andrei a portare denaro stiamo parlando di 9 anni fa adesso probabilmente è anche peggio in conseguenza proprio del quello che è accaduto con le dinamiche economiche post governo di Correa e Bukele con il suo Salvador non si trova in una posizione certamente attraente il miglior paese in questo momento qua al mondo anche per scusate in America Latina come driver di crescita sono e il Cile seguito eventualmente da Panama proiezione della leuda cioè come si sta evolvendo il debito pubblico in El Salvador beh fino a se non ci fosse stata la pandemia tutto sommato era gestibile 70% di indebitamento però come potete vedere dal 2020 in poi esplode diventando diventando critico e necessitante di interventi di emergenza vedete qui si parla ormai di oltre 23 miliardi di dollari che per un paesino così piccolo sono tantissimi il 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 deficit continua ad aumentare anno dopo anno e questo va ad incrementare ovviamente nel suo complesso il debito pubblico nel frattempo il potenziale di crescita del paese si è anche deteriorato e come potete vedere siamo ormai tra le peggiori contrazioni ovviamente per quanto riguarda quella parte di continente il Salvador è il paese in America Latina che ha avuto il maggior aumento di costi sociali per interventi emergenziali dovuti alla gestione della pandemia e questo si è ripercorso appunto su le finanze pubbliche ha perso potenziale di crescita economica ne abbiamo fatto presente anche con le grafiche precedenti e quindi nel suo complesso la situazione è tutt'altro che confortante 5 curiosa coincidenza proprio come abbiamo detto prima prima che venisse presentata la faraonica opera di Bitcoin City finanziata con un miliardo di prestito da controparti estere private casualmente lo stato di El Salvador aveva cercato di negoziare un prestito sovranazionale con il fondo monetario internazionale per un miliardo di dollari al fine di risanare le finanze pubbliche post pandemia e questo è un dato che non viene assolutamente ripreso dai Bitcoin massimalistico guardate non crediate a quello che dico io leggiamo esclusivamente la stampa di settore dell'America Latina e guardate la data 4 marzo del 2021 qualche mese prima che venisse annunciata tutta l'enfasi della bitcoinizzazione del Salvador e il Salvador cerca un finanziamento dal fondo monetario internazionale per rivitalizzare la propria economia altra notizia Naib Bukele cerca 400 milioni di dollari in prestamo dal fondo monetario internazionale 22 marzo con la finalità vedete di risolvere le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus anche lì in Salvador tutto questo prima che qualcuno parlasse di bitcoin nel governo 4 marzo grosso modo un anno fa El Salvador negozia cioè sta tentando di stava tentando di negoziare un miliardo e 4 con il fondo monetario internazionale perché vedete avere fondi per portare a compimento programmi sociali per gestire tutte le conseguenze della pandemia e il fondo monetario che cosa fa? che è il cattivone di turno non te li dà e il denaro certo che te li dà al pari di tantissimi altri paesi però pretende che cosa? un piano a corto plazzo di da una parte come verranno impiegati questi fondi e soprattutto poi come si dovrebbero come dovrebbero essere come dovrebbero essere poi rimborsati e ovviamente Bukele questo piano non ce l'ha perché quasi tutta la sua attività di governo è improvvisata e l'abbiamo visto nella prima e nella seconda parte El Salvador pertanto deve trovare una soluzione anche qua 8 aprile deve trovare una soluzione per finanziarsi per uscire dal paltano altrimenti fa la fine del Venezuela o peggio dell'Argentina andiamo avanti misteriosamente dopo che non si riesce a trovare un trade union tra il Fondo Monetario Internazionale e il governo del Salvador ale esce un miliardo di dollari disponibili potenzialmente in termini di raccolta ricorrendo a Bitcoin bond e alla costruzione fantasmagorica e utopica di Bitcoin City per chi non lo avesse ancora compreso El Salvador rischia una crisi sociale ed umanitaria peggiore di quella del Venezuela durante il 2018 con una diaspora di oltre 3 milioni di profughi che sono stati accolti da alcuni paesi confinanti e fatalità il modo di operare che a Bukele è lo stesso che aveva prima verso la fine dei suoi anni Chavez e poi adottato da Maduro 6 Bukele è l'utilizzo della retorica farsi amare dalle cripto community occidentali l'aspetto settario dell'intera operazione faraonica guardate questo tweet di quest'anno inizio proprio gennaio 2022 predizioni di Bitcoin da parte del clan Bukele raggiungerai 100.000 dollari altri due paesi quindi oltre al Salvador ce ne saranno altri due adotteranno Bitcoin come legal tender e negli Stati Uniti ci saranno problemi questioni legate a problematiche elettorali terzo Bitcoin City inizierà presto la sua costruzione i Volcano Bond saranno andranno in overbooking e infine ci saranno grandi sorprese alla Bitcoin Conference di Miami facciamo un rewind alla Bitcoin Conference di Miami non c'è andato i Volcano Bonus non sono tutt'altro che in overbooking Bitcoin City non è iniziata assolutamente la sua costruzione gli Stati Uniti non si trovano per adesso in questo tipo di scenario non ci sono assolutamente due paesi che stanno valutando di adottare legal tender si dice si parla che forse il Messico farà qualcosa ma siamo distanti anni luci e Bitcoin raggiungerà i 100.000 può darsi che questo si verifichi per adesso siamo molto distanti da questo tipo di ipotesi gli apostoli del Bitcoin questo è del 4 marzo del 2022 quindi poco tempo fa e fa comprendere che cosa sta creando che cosa è andato in scena in El Salvador vedete il tutto si è ormai trasformato a livello settario Bitcoin è una sorta di culto religioso e non va assolutamente bene per un paese molto povero che si deve rifinanziare e deve tentare di risolvere tutte le problematiche sociali che riguardano le classi di scusate le fasce sociali della popolazione molto povere a queste ultime Bitcoin non risolve assolutamente la vita anzi lo abbiamo visto nella seconda parte in cui il 90% di salvadoregni si sono resi conto che Bitcoin è un attivo finanziario è una inversione non sostituisce la moneta per il vivere di tutti i giorni comprare un Bitcoin per la libertà e ora va a finanziare un diritto latino-americano se voi andate a vedere la pubblicità e la propaganda che continua ancora adesso a essere pompata agli osa soprattutto anche in casa nostra in Europa vedete che si parla di un fanfaron il leader autoritario è un fanfaron che è una parola non il dialetto veneto ma in castigliano che fa capire come l'utilizzo della retorica serve proprio a questo tipo di obiettivi il salvadore oggi è diventato una meta di pellegrinaggio per cripto invasati per quelli che credono a Bitcoin come se fosse il sangue di giro questo è nostro signore assolutamente niente del genere quello che viene percepito lì dalla popolazione salvadoregna dopo l'esperimento fallimentare del Civo Wallet 7 e adesso parliamo dei Vulcano Bonos fino ad ora sembra sia stata solo pura propaganda per attirare l'attenzione mediatica e sondare il terreno andiamo per gradi l'emissione di Vulcano Bonos sembrerebbe più un'operazione di start-up che un tipico prestito obbligazionario emesso da uno stato infatti tutto si regge solo su un best case scenario vale a dire questo potrebbe generare maggiori più svalenze questo potrebbe consentire di avere più fondi a disposizione dello sviluppo considerando che se si arriverà a questo tipo di risultato questo potrebbe generare ci sta si tratta tutto di casistiche molto ottimistiche che cosa accade invece se per casualità Bitcoin anziché andare verso i 50.000 dollari scende a 30.000 o peggio ancora va a testare i 20.000 che oltretutto alcuni analisti piuttosto considerati a livello mondiale stanno proprio per quello che vediamo cominciando a tirar fuori dal loro taschino che non è assolutamente detto che quest'anno ci saranno nuovi massimi storici ce lo auspichiamo tutti però al momento attuale l'incertezza arregna sovrana e la favola fantasmagorica di utilizzare l'energia sì ideologicamente ci può stare ma al momento attuale non c'è niente di tutto questo solo l'unico questo è il progetto questo è il progetto dei di Bitcoin City non c'è altro sappiatelo è tutto accampato per aria utopistico molto attrattivo dal punto di vista del marketing proprio per attrarre e creare consenso retorica politica utilizzare il vapore emesso ai sorgenti termali del buca del volcano per mettere in moto delle turbine e quindi questo generare energia elettrica di forma pulita e alimentare tutta una serie di infrastrutture all'interno del all'interno di Bitcoin City andatevela a guardare che cos'è successo a The World a Dubai perché ci sono delle similitudini che sono impressionanti ovviamente non c'era il vulcano ma la pomposità e il progetto faraonico ha dei punti di contatto straordinari ovviamente tutto stravenduto on plan sulla carta e poi di fatto una ne hanno realizzate di isole e non so quante persone si sono suicidate per aver creduto perché ovviamente si sono indebitati per andare a costruire il tutto Bucchele un tweet dello scorso anno vedete giugno 2021 ho dato istruzioni alla GEO affinché la tipo la nostra Enel italiana per apprestare velocizzare quanto prima la realizzazione di infrastrutture per la produzione di energia 100% pulita verde rinnovabile utilizzando e straendola dai nostri vulcani cioè questa è l'input che ha dato Bukele a la GEO e che diolo è la GEO beh appunto è la società statale che si occuperà di emettere poi il bitcoin bond o il vulcano bonus per un miliardo di dollari come potete vedere al momento attuale produce questa società quasi il 25% di energia che consuma il paese quindi questo significa che ancora adesso ci sono delle zone al pari del Venezuela nonostante siano fortemente ricchi di energia nel sottosuolo e anche energia idroelettrica vantano problematiche di approvvigionamento elettrico per la popolazione che ha spesso dei blackout al pari di quello che accade anche in El Salvador ma perché l'emittente di questo bonus di questo bond è la GEO perché il rapporto debito pilchia El Salvador è quasi oltre il 100% e fate attenzione perché non sarà un'emissione sovrana quindi ritornando indietro alla grafica che avevamo visto all'inizio in cui si diceva che l'emittente era la Repubblica del Salvador no non è vero l'emittente sarà questa società controllo statale e ve lo mettono in evidenza qui la quale non avrà la garanzia sovranazionale quindi quello sarà un'obbligazione emessa a livello corporate che non è parificata un titolo di stato e questo ha tutta una serie di non poche problematiche proprio perché già il progetto è ambizioso se non utopistico però il soggetto che va a emettere il bonus che quindi poi me lo dovrà rimborsare ipoteticamente la scadenza è una società che è privata soggetta al controllo di bucchelle e da quello che abbiamo visto fino adesso non è che ha particolare particolare attrazione si parlava che i bitcoin bond dovessero essere emessi a marzo siamo ormai alla fine di aprile e non se ne parla assolutamente vedete l'idea di emettere il bono viene post posta è spostata in avanti ma perché il lancio allora è continuamente rimandato nonostante questa pomposità faraonica primo difficoltà a trovare investitori istituzionali negli Stati Uniti anche perché di mezzo c'è di Bifinex che non è tanto amato lì secondo la guerra in Ucraina ha raffreddato il mercato dei capitali obbligazionali abbiamo visto quello che è accaduto ad esempio con tutti i titoli di Stato messi in russi ma anche a tutti i titoli sovranazionali linkati al rublo russo 3 la price action di Bitcoin appare tutt'altro che favorevole in questo momento come ho detto prima ci potrebbero essere ritest di quotazioni in questo momento anche prossime ai 30.000 4 ed è l'aspetto più importante la legge per emettere il bond è ancora in alto mare come si chiama questa legge per emettere il bond lei de activos digitales che serve appunto per gestire l'emissione e creare tutta l'architettura anche legislativa per il controllo dell'ageo più poi l'emissione e il ruolo che avranno i bookrunner ossia i soggetti che andranno a collocare il bonus e come potete vedere al momento attuale nonostante Bukele questo è di marzo 23 scusate 23 marzo di quest'anno guardate lui stesso dice non vi preoccupate i vulcano bonus verranno emessi grazie a Bitfinex però in questo momento l'emissione è spostata in avanti perché abbiamo come priorità di governo quella di risolvere la riforma delle pensioni ora io vorrei capire qual è il nesso tra la riforma delle pensioni e i vulcano bonus che oltretutto hanno un anno ormai quasi di pubblicizzazione a livello mondiale questo è un segnale poco incoraggiante perché proprio da come si sta emergendo trasversalmente in tutta l'America Latina in modo di governare di Buchele è disordinato e in tali casi addirittura richiama l'improvvisazione guardate l'essenza della Bitcoin lei l'abbiamo esaminato all'interno della seconda parte una legge scritta sembra da uno di terza media dieci articoli striminziti che fanno letteralmente pena di certo quella non è una legge di portata di vehemenza sostanziale che vuole cambiare in misura significativa il futuro di un paese e l'aspetto che sta emergendo alla faccia che i bonus di Bitcoin Volcano bonus li vanno a portare via a tutti c'era l'overbooking l'esatto opposto non si stanno ricevendo non si sta ricevendo attrazione significativa soprattutto dagli Stati Uniti da investitori statunitensi disposti a mettere denaro per alimentare la costruzione di Bitcoin City e tutto quello che vi è dietro quindi il momento attuale su Bitcoin City e il Vulcano bonus c'è tutt'altro che un buon clima questa è una intervista piuttosto nota che ha fatto un docente in America Latina Jorge Quea che fa comprendere che in El Salvador sta andando in scena l'esperimento Bitcoin pericolosissimo per quel paese non solo dal punto di vista finanziario ma soprattutto sociale perché ricreare Bitcoin City ammesso che riusciranno a farlo produrrà fenomeni di espropriazione nei confronti delle fasce sociali quelle più deboli e quelle stesse espropriazioni che quando Bukele stava nel fronte marabundo Martín per la liberazione nazionale che propose le zone di investimento speciale aveva bannato bandito criticato ovviamente come operazioni neolibertarie da parte di chi ovviamente di un partito di sinistra adesso lui vuole fare addirittura anche peggio e fa perfettamente comprendere come in questo momento andrà a creare quel tipo di infrastruttura tra virgolette geotermica utilizzando il volcano per alimentare bitcoin city sarebbe una follia anche dal punto di vista della priorità di governo perché ci sono il salvador in porta elettricità dai paesi confinanti quindi se mai ci dovesse essere quel tipo di progetto dovrebbe essere implementato per aumentare la capacità di indipendenza energetica del salvador non certo per metterla a disposizione di quella faraonica opera ci sono pareri negativi sui vulcano bonus al di là di questa stampa che magari qualcuno adesso criticherà dicendo ah non ha alcun tipo di spessore sono esternazioni che possono essere messe su un cantone certo l'idolo di tutti i bitcoiner michael sailor con la sua microstrategy che cosa dice che è una follia quello che hai in mente di fare bucchelle e il suo governo soprattutto andare a emettere un prestito obbligazionale per comprare poi in parte bitcoin il consiglio che dai invece di utilizzare la stessa modalità operativa di microstrategy casomai mettendo a disposizione già le dotazioni che hanno chiedere a un prestito con collaterale gli stessi bitcoin ed effettuare ulteriori acquisti per aumentare le proprie dotazioni ma non ricorrere ma non ricorrere in questo tipo di realizzazione faraonica ademas oltretutto qui ormai in america latina sta andando in scena come potete vedere una grande una grande rappresentazione scenografica da parte del array criptografico barbudo che ha sapientemente replicato il modo di fare di trump durante la sua esitosa campagna elettorale costruendo una personalità in maniera tale da avere garrazie in maniera tale da avere tanta celebrità in america latina il tipico modo di fare vedete della vecchia scuola populista latino americana non è la prima volta che si vede questo tipo di comportamento da parte di un leader di un paese l'america latina e l'aspetto che preoccupa ad ogni modo maggiormente è i legami strettissimi che ha il governo di buchele con l'amara salvatruccia di cui abbiamo parlato all'interno della prima parte ossia la più importante pericolosa e potente organizzazione criminale di bande presenti in america centrale anche secondo la nasdaq che è la società national association stock dealer association quotes che mette in profonda discussione anche i cosiddetti ideali libertari che sostengono tutti i colori quali hanno a cuore il mondo delle criptomonete sono profondamente in contrasto con l'autoritarismo di governo e quello che sta facendo buchele per trasformare la costituzione del salvador la sua immagine e somiglianza ripeto ancora una volta lo stessa cosa fece chavez con il venezuela 10 attenzione perché a questo interessa tutti quelli che hanno importanti dotazioni di crypto asset all'interno dei propri portafogli nasce il preoccupante concetto del blockchain imperialism che cos'è il blockchain imperialism il fatto che si sta osservando in tante parti del mondo come ci siano delle ingerenze delle sporche alleanze per usare questa terminologia o impropri alleanze o alleanze poco edificanti tra chi tra rappresentanti del potere politico negli Stati Uniti e poi attori corporate del mondo cripto in buona sostanza come potete vedere nel Salvador tutta l'infrastruttura istituzionale democratica sarebbe stata abbandonata proprio per inchinarsi a dio bitcoin perché quello che conta è solo il diktat non di un governo ma di attori di mercato esteri che in questo momento sono interessati fortemente all'esperimento che sta andando in scena a bitcoin a scapito della popolazione salvadoregna e non ci sono ci sono tantissime voci di contrasto che come potete vedere mettono in scacco tutto quello che sta realizzando il governo di Bukele parlando di uno schema piramidale in stile Ponzi che ha esacerbato le iniquità a livello sociale e creato le condizioni per una retorica populista volta all'ascesa di questo nuovo colonialismo a marchio bitcoin proprio come erano i colonialisti di un tempo che avevano i capitali adesso i colonialisti di oggi sono quelli che hanno i bitcoin pesanti ma bitcoin pesanti significa grandi attori di mercato che possono per questo decidere sedersi a tavolo con un governo e spartirsi letteralmente gli interessi alla faccia della popolazione e qui abbiamo due attori che sono piuttosto noti da una parte Blockstream e dall'altra Bitfinex che ben sappiamo dovranno gestire tutta l'emissione issuance del bond del vulcano bonus con non poche problematiche questa redazionale poi vi fa capire anche i rischi che si potrebbero avere che potrebbe avere il Salvador rischi che lo potrebbero proiettare in uno scenario di crisi socio-economica peggiore di quella del Venezuela se qualcosa andasse male ed infine ed è uno dei elementi che maggiormente vengono richiamati anche ormai da altri paesi dell'America Latina guardate qua che cosa dice in Messico che si hanno non dico le certezze ma delle evidence delle prove abbastanza credibili ed oggettive che il governo di Bukele ha trattato con la Mara Salvatuccia eccola qua MS-13 e tutte le bande di micro criminalità che controllano di fatto il territorio anche in El Salvador in Guatemala in Honduras e pertanto si deve plausibilmente credere che c'è stato un qualche tratto qualche accordo segreto per spartirsi qualcosa non si sa ancora che cosa ma probabilmente nei prossimi anni ce ne renderemo ce ne renderemo conto e questo è uno degli elementi che maggiormente ha posto in allerta anche il Fondo Monetario Internazionale nel senso che va bene io ti posso anche prestare un miliardo di dollari però tu devi implementare queste riforme per rendere il paese sostenibile per aumentare il livello di benessere nella popolazione e devi abbandonare molto prima che arrivasse il carico da 90 della proposta Bitcoin Legal Tender Bitcoin City e Bitcoin Bonus a riflessioni e qui siamo verso la fine i salvadoregni non hanno mai avuto voce in capitolo né sulla Bitcoin Lei e neanche sulla Bitcoin City andatevi a guardare la seconda parte in cui viene messo in evidenza come viene approvata Bitcoin Lei sono stati costretti ad adottare dei strumenti per interagire sui pagamenti e trasferimenti tra di loro in cui il governo ha il controllo assoluto e se ne guarda bene anche dal dare rappresentazione analitica di tutti questi dati la politica di Buckele è formalmente antisistemica ma nella sostanza appare invece tipicamente predatoria con l'autoricchimento privatistico degli stati dell'America Latina tra il clan Buckele e i suoi stretti alleati se in passato abbiamo avuto presidenti militari e capitalisti collusi per raccogliere benefici economici e condividere il bottino dello sfruttamento Bitcoin nel Salvador è qualcosa di stranamente molto simile un'alleanza tra tecnocapitalisti nazionali e imprenditori della Silicon Valley in un'impresa reciprocamente vantaggiosa di cui i comuni salvadoreni beneficiano veramente molto poco questo esperimento sta portando alla luce purtroppo una nuova forma di colonialismo l'imperialismo della blockchain o il blockchain imperialismo in cui l'unico scopo è lo sfruttamento da parte di pochi di un nuovo tema di sviluppo economico al fine di arricchire ancora di più le elite internazionali dei grandi Bitcoiner conclusioni per i crypto enthusiastic entità sovranazionali come il Fondo Monetario Internazionale rappresentano i mali della finanza centralizzata prima dell'arrivo delle criptovalute il Fondo Monetario Internazionale ha sempre rappresentato storicamente l'uomo nero cattivo per l'America Latina identificato come il simbolo dell'imperialismo statunitense per gli amanti di Bitcoin and Company invece il mondo cripto si basa sul pensiero libertario reazionario che celebra facili soluzioni economiche fai da te rafforzando in questo modo l'immagine malvagia del Fondo Monetario Internazionale di tante altre istituzioni finanziarie sovranazionali sparare contro il Fondo Monetario Internazionale rappresenta una tattica molto persuasiva quando vuoi creare facile consenso con le giovani generazioni in America Latina le criptovalute e la finanza decentralizzata vengono vendute come una soluzione di nuovo nazionalismo libertario tuttavia dare la colpa solo al Fondo Monetario ed altre istituzioni sovranazionali può essere storicamente vero ma in questo caso non rappresenta l'intera storia anche gli opportunisti come la famiglia e il clan dei Buchele sono sempre stati in combutta con queste entità finanziarie per interessi di parte l'impronta populista ed il carisma farisaico di Buchele che piace tanto alla Peter Pan Generation gli ha permesso di imporre una nuova e rischiosa autoderminazione nazionale nascondendo in realtà una subdola vocazione di arricchimento privatistico per sé e tutti i suoi partner stranieri che è il tipico modo di fare di qualsiasi caudillo di una nazione dell'America Latina trovate in descrizione ovviamente tutte le fonti che sono state menzionate sino adesso con anche la possibilità di andarvi a riascoltare la prima parte la seconda parte e ovviamente anche questa che vengono messe insieme all'interno di una grande playlist che vengono